Dal settembre 2024 si aprirà un nuovo indirizzo ed è appunto l'indirizzo alberghiero di operatore della ristorazione. È un percorso al momento triennale, quindi con il rilascio della qualifica in operatore della ristorazione, che prevede naturalmente anche un completamento fino a giungere al diploma, diploma di tecnico della cucina. Quindi l'indirizzo è quello enogastronomico settore cucina. Si rivolge a tutte le ragazze e tutti i ragazzi che in questo momento stanno pensando per poter scegliere l'iscrizione alle scuole superiori per il prossimo anno. È una grandissima opportunità che prevede, come ripeto, per ora un percorso triennale di qualifica con la prospettiva anche del diploma. Come devono fare i ragazzi per partecipare a questo corso? Come funziona? Dunque, innanzitutto partecipando alle giornate di Open Day, che sono appunto tutti i sabati, l'ultima è quella del 27 di gennaio, e informandosi, presentandosi naturalmente agli sportelli didattici delle segretarie didattiche della scuola e chiedendo naturalmente informazioni agli orientatori del nostro istituto. Un sito? Il sito è quello del donorionefano.it dove è possibile naturalmente reperire tutte le informazioni. Ma la cosa importante e la novità che stiamo introducendo è anche la collaborazione proprio con le associazioni di categoria e con le forze produttive del territorio. E proprio oggi noi sigliamo un protocollo d'intesa molto importante con le associazioni di categoria Confesercenti e quindi con quella parte dell'associazione che si occupa proprio della ristorazione, quindi che rappresenta i pubblici esercizi, i bar, i ristoranti, gli alberghi. Questo per noi è molto importante perché il nostro percorso deve permettere a tutti gli allievi di garantire una professionalità e un inserimento occupazionale. Il ruolo nostro è proprio quello di creare una vera e propria filiera del mondo del lavoro, cioè far incontrare domanda e offerta lavorativa. I corsisti avranno la possibilità già dal secondo anno di mettersi a disposizione delle strutture ricettive, quindi parlo del mondo della ristorazione, della somministrazione, delle strutture alberghiere e avranno la possibilità di sperimentare sul campo le loro abilità. Per contro i ristoratori, gli imprenditori avranno la possibilità di formare i ragazzi a seconda delle loro esigenze e quindi avere finalmente del personale preparato e plasmato da poter utilizzare poi anche in futuro. Abbiamo visto come gli sforzi vanno nella direzione di fare turismo, cercare di fare rete per portare turismo nei nostri territori. Però nel momento in cui i turisti arrivano, le nostre strutture si devono far trovare pronte. Il turista deve trovare dell'accoglienza, deve trovare un mondo che possa poi permettere di decidere in futuro di tornare nuovamente nei nostri territori.